Conosco i ragazzi particolarmente di questa classe ed ero un ragazzo dolcissimo, molto educato e poi sorridente, pieno di vita. Dico solo che è veramente sconvolgente, non si può sopportare. Vorrei dire alla famiglia, a tutto il mio portoglio, che non si possono dimenticare certe cose per tutta la vita. Tutto. Marte! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti